Cosa pensi dei guru del marketing? Cosa penso dei guru del marketing? Ottimo esempio della bolla di fake marketing in piena esplosione in Italia. Ostentazione di ricchezza, non verificabile tra l'altro. Copia e incolla di varie nozioni di marketing che ti manca sempre un corso, cioè il successivo, per fare il grande salto. L'autorità da prima viene creata ad hoc con esibizioni di notorietà e di successo, vedi le Lamborghini a Dubai. E poi si autoalimenta con i gonzi che man mano vengono catturati nella rete. Solitamente rimangono affascinati da questi personaggi, coloro che di marketing non sanno proprio niente. Non sanno niente di gestione di impresa, non sanno niente di rapporti con i fornitori, di fisco, di clienti, eccetera. Ma sono persone che sono sempre alla ricerca delle 10 regole per creare un business di successo dal niente. E poi all'inizio ti abbindolavano perché ti parlavano da una Lamborghini parcheggiata a Dubai. Poi hanno perso credibilità perché obiettivamente non ci credeva più nessuno. E quindi sono arrivati i nuovi guru del marketing che sfangulavano quelli in Lamborghini e Dubai. Cosa ne penso dei guru del marketing che di marketing non sappiano niente, ma sanno comunque farti vivere il sogno di come arrivare ai loro livelli comprando il loro corso.